ben a tutti ragazzi sono facenti e bentornati in questo nuovo video niente avevo pubblicato lo short apposta proprio così apposta lo short per fare un scritto il prossimo video e questo è il prossimo video che devo fare per forza devo fare sto video per forza devo fare è un video che per forza va fatto perché qua ormai avevo fatto quanti video di questo genere quanti ne avevo fatti quasi una decina più o meno siamo lì una decina di questi video di bus incendiati da spezia ormai sono cose una decina che ne faccio ormai siamo lì aumenteranno eh i video aumenteranno sto sempre in continuo in questi video qua in cui ripeto sempre le solite cose sempre le solite puttana sempre le solite sempre la solita scarsa voglia di fare manutenzioni di fare revisioni di fare quello tutta magari poi ci sono anche delle spese per la demolizione si fa prima a fare a sabottare come dire sì sabottare un mezzo per farlo incendiare almeno così evita anche le spese di demolizione poi tutta la questione che comunque prende un fuoco un bus sul raccordo quindi proveniente dall'erici dall'erici bugiano quei posti lì quindi non si sa bene se viene poi dal servizio del bugiano quello degli operai o meno l'ortista lo porta fuori dall'erici ok anche da cadere cadete su a metterla da l'erici alla spezia si con un centro riuscito a raggiungere il viadotto di paieri quindi quasi era quasi all'uscita dall'autostrada era quasi l'uscita dall'autostrada ho dito un forte boato ho visto anche su facebook i commenti perché c'è anche su facebook il post anche quelli lì della spezia che mettono tutta la roba tutte le notizie della città c'è stato udito anche qualche commento visto limone quei posti lì comunque quei posti lì nei dintorni futuramente non ce lo posso dire i frami non sono scatturati dal motore quindi questo dice questo vogliamo dire che non è stato un problema del motore è stato un altro problema è stato il problema sempre di guasto motore vogliamo dire se vogliamo dire come sempre cortocircuito vogliamo sempre dire la la solita cosa del cortocircuito la vediamo la vediamo scritta cortocircuito cortocircuito sempre allora i soliti al cento per cento dei casi incendi cortocircuito vostro al motore son pochi e vostro il motore sono veramente pochi veramente ma pochi l'utilizzo del fuoco hanno uno spettro di genio il bus è andato fuori è andato distrutto ovviamente d'accordo mai un mezzo della tc va va in salvo con se fa in incendio mai quindi quello non è una novità comunque 31 agosto la data è sbagliata in realtà è successo il 30 agosto non il 31 è adatta qua è da rivedere comunque tanta paura tanto c'era nessuno che c'era solo autista magari di chi abitava in quelle zone vicine avrà visto il fumo il boato e basta non è che cos'è un attacco militare era putin con le con le bombe che cazzo è fortunatamente sono feriti il cielo di autostatici primo pomeriggio di ieri su raccordo l'eric la spezia all'altezza di mezzo tipa erano da poco trascorse le 14 30 quando in mezzo mercedes ai più vecchi che era stato acquistato usato nel 2018 dall'austria precisiamo dall'austria comunque un tratto proprio di impianto antincendio vanno in motore questo io non so riconoscere questa cosa dell'impianto antincendio perché vari bus hanno l'impianto antincendio che dovrebbe funzionare non che magari comunque anche se viene fuori una fiamma per esempio una fiamma l'impianto non lo riconosce che qual è una fiamma non credo quindi qui secondo me c'è qualche balla che è raccontata ma perché in me non credo che il mezzo era dotato di impianto antincendio e non credo proprio dall'età non credo proprio che sia stato dotato di proprio di questo impianto qua gli anni mesi più moderni questo mezzo non credo che abbia perché sennò l'impianto avrebbe funzionato l'impianto 90 su 100 non 100 per cento 90 su 100 avrebbe funzionato quindi questa è una puttanata grossissima dell'impianto antincendio comunque allora preso improvvisamente fuoco non dalla parte del motore dal lato centrale guarda scattolito forse da un cortocircuito è imperato il condizionamento o da quello di apertura delle portiere c'è per loro è sempre questione di cortocircuito questo motore mai dove sempre cortocircuito dico dopo e poi c'è questo è nuovo poi comunque dell'impianto di condizionamento non ho mai sentito la prima volta che sento una roba del genere non ho mai sentito apertura delle delle portiere cioè se tu apri le portiere di fare il cortocircuito vabbè vabbè lì ha fatto bene perché nel bosco cos'è deve prendere a fuoco tutto il bosco tutto il bosco deve prendere a fuoco quindi in questo in quel caso li ha fatto bene ma ha tirato dritto ha tirato di due ha continuato pure se stava prendendo a fuoco due continuata tre fino a raggiungere il viadotto fino a raggiungere l'uscita della galleria ok quando le fiamme ormai avevano preso campo è ovvio lui continua a accelerare all'andare avanti a guida è ovvio che che anche peggio è peggio di prima però comunque ha fermato l'auto si è sceso provando ad usare destino ma gli istintori funzionano 50 su 100 o anche 60 70 sui 100 gli istintori se non da ben poco o mai si è capito che ormai gli istintori a che cazzo serve a bordo gli istintori serve se magari prende una sigaretta la butti magari prende a fuoco qualcosa allora lì sì ma io mezzo ora che cosa sai che quando apri il vano motore più tutte le fiamme non viene la fiamma viene vengono a meno una colonna alta di fiamme che cazzo fai con l'istintore non fai nulla gli fuori una beffa le fiamme con l'istintore l'istintore non serve a niente di dotazione ma almeno ma poi l'antincendio l'antincendio deve funzionare come deve funzionare non è che deve essere malfunzionante che poi sta cosa secondo me non è vera in quel mezzo che c'era l'antincendio comunque l'istintore nei mezzi non serve a niente non serve a niente lo dico io che non serve a niente perché tanto ormai la maggior parte dei casi è troppo tardi quando tu cerchi di intervenire con l'istintore è già troppo tardi non puoi fare nulla l'istintore non serve a un cazzo nel mezzo si può anche evitare di metterci perché tanto a che cosa serve l'istintore se più a fuoco lo stesso che cosa serve come i vigili del fuoco che vengono magari un quarto d'ora dopo è già tutto finito quando vengono loro cioè loro sono venuti quando ormai più della metà è distrutto cioè anche l'intervento è tutto questo ormai la lascia in disuso ormai l'autobus la lascia in disuso che senso ha se chiama i vigili tanto ormai distrutto lo stesso figurati cioè non è che io dico queste cose sono inutili ormai tanto anche se fosse un autobus nuovo anche lì vengono troppo tardi l'istintore non serve a un cazzo non serve a un cazzo l'istintore a che cosa serve l'istintore non serve a nulla se lo serve per mettertelo nel culo serve l'istintore l'istintore non serve a niente quindi anche nelle case serve a ben poco non serve a ben poco comunque ma in vano è ovvio che in vano giusto in tempo perché il fuoco si è propagato e proprio velocemente l'ha provocato un forte buato unito nelle vicinanze fosse dovuto allo scoppio delle bombe dell'aria compressa che servono per l'impianto frenante per le sospensioni il rogo ha sprigionato una cupa di gigantesca colonna di funerio che è stata vista in più punti da città immediato l'alarma ai vigili del fuoco immediato non che loro sono venuti subito ma che lui ha chiamato poi loro saranno venuti quindi a un quarto d'ora venti minuti dopo sono venuti che ormai è già finito cioè cosa spengono cosa spengono le parti che sono più carbonizzate spengono cioè ma che cazzo volete spegnere veramente che sono giunti rapidamente sul luogo degli incendi e hanno usato la schiuma per spegnere le fiamme capirai la schiuma il mezzo però è andato quasi del tutto carbonizzato eh sì ma guarda scrivere quasi del tutto è un parolone è completamente distrutto non quasi del tutto completamente distrutto è stato chiuso in trame direzione del traffico di viato con lunghecole lo stesso amministratore bastardo che mi sta sul cazzo l'amministratore con il capo e tutti gli altri mi sono sul cazzo le balle mi stanno eh il masinelli caro caro masinelli di merda mi stai sul cazzo ha contattato l'autista e la zia e l'azienda ha avviato un'indagine sugli incidenti ma cosa vi ha? è fatto apposta cosa vi ha? che tanto è fatto apposta la polizia nemmeno ve li guarda i bus nel deposito di Torino per esempio ci sono eh i pulmini e la polizia le macchine ma lì cosa? chi li controllano? chi è che li controlla? non ce ne va nemmeno la polizia ma nemmeno i vigili ci sono lì chi li controlla? nessuno quindi serve a ben poco guarda a fare l'indagine perché tanto loro se la passano liscia comunque niente non ho più niente da dire era questo tutto qui io ormai incazzarmi per queste cose non serve un cazzo comunque la TC è peggiorata molto negli ultimi anni è molto molto peggiorata molto e continua a peggiorare anche per il resto degli anni continuare comunque a peggiorare anche per i bus anche se acquisto quelli nuovi ovvio già quando stavo alla spezia eh quelli nuovi uno di quelli nuovi c'era il buco dentro cioè aggiustatelo quel buco come si fa a essere un un mezzo il buco tutto spaccato da parte sotto tutto forse sembra che li hanno strappato con il taglierino con il coso lì con la smegliatrice ma che cazzo fate che manutenzione è ma che modo è di tenere i mezzi cioè voi tenete i mezzi alla cazzo alla cane voi tenete i mezzi alla cazzo di cane e siete delle merde concludo qua posto concludo qua c'ho altro da dire concludo perché veramente poi mi girano niente gaga io concludo qua spero un bel like commentate iscrivetevi noi ci becchiamo al prossimo video